essere con voi a questa trasmissione a Damasco, dove il tema principale riguarda quelli che sono gli incontri determinanti nel corso di una vita, nel cammino di una carriera, quegli incontri che decidono appunto di una professione, di un destino, di una passione. E in questo caso mio naturalmente si tratta della decisione di dedicare la vita allo studio e all'insegnamento della filosofia. Naturalmente la filosofia non nasce soltanto come forse qualcuno potrebbe pensare dalla lettura dei libri, no, diceva Husserl, un grande filosofo tedesco del nostro secolo, che la filosofia nasce soprattutto dalla vita, prima che dai libri. E credo che sia stato così anche per me. La filosofia innanzitutto è qualche cosa che noi incontriamo nei momenti di riflessione, nei momenti di sofferenza, nei momenti di gioia, quando siamo in dubbio circa il vero e il falso, la giustizia e l'ingiustizia delle cose. Di lì nasce insomma una motivazione a riflettere. E poi certo anche gli incontri, gli incontri determinanti con quelli che sono stati gli insegnanti importanti della nostra vita e infine i libri. I libri sono certamente importanti anch'essi per la filosofia ed è dei libri naturalmente che io vi parlerò immaginando un percorso che non è soltanto attraverso un unico autore, come spesso so che accade a Damasco, ma che chiama in causa più autori, perché nel mio caso almeno si è trattato di una stimolazione molteplice, diciamo così. Un po' alla volta ho maturato la convinzione di dovermi dedicare alla filosofia, d'altronde un ragazzo non parte dicendo nella vita farò il filosofo, sarebbe un po' comico. Ecco, io ho pensato di dedicare il nostro primo incontro però a un tema filosofico generale che ricordo mi colpì moltissimo da ragazzo appunto, il tema dell'infinità dell'universo. Noi moderni pensiamo che l'universo sia infinito, ma naturalmente cosa significa infinito? Certamente siamo colpiti quando guardiamo il cielo notturno della complessità di questa visione, della mancanza di limite. È qualche cosa che certamente invita ad una riflessione e che lascia la riflessione sospesa, perché è difficile, è difficile dare un senso a questa visione. Ecco, io partirò di lì, da una riflessione dedicata appunto all'universo infinito, con almeno un paio di autori che ci accompagneranno nel cammino. Ecco, allora il primo autore che chiamerò a testimone di questa meditazione che facciamo insieme sull'infinità dell'universo, vedete, non è un filosofo, è uno scrittore, ma questo capita, la filosofia si trova un po' dappertutto, nelle arti, nella religione, nella letteratura, nella scienza naturalmente. Questo è uno scrittore, si chiama François Savier de Maistre, è vissuto dalla fine del Settecento sino alla metà dell'Ottocento, ed è il fratello minore di un altro scrittore, ancora più famoso che Joseph de Maistre, l'autore delle serate di San Pietroburgo. Il più piccolo dei due de Maistre era un ufficiale sabaudo, era nato infatti nel nostro Piemonte, in quello che allora era unito alla Francia. De Maistre, giovane ufficiale, incappò in una disavventura, chiamiamola così, fece un duello, i duelli erano proibiti agli ufficiali, ai soldati in generale, e quindi venne punito con 42 giorni di detenzione nella sua camera. 42 giorni per un giovane di 25 anni, un giovane molto ardente, ardimentoso, erano pesanti, lunghi da passare. De Maistre ebbe un'idea che poi fu una fortuna, anche per il suo destino letterario, di descrivere la sua stanza, di passare il tempo prendendo appunti, notazioni, notazioni sentimentali, ironiche, riflessive, su quello che intorno a lui lo accompagnava in questo cammino stravagante, chiamiamola così. Ma soprattutto il nostro de Maistre, nelle solitarie notti, guardava il cielo. Guardava il cielo e stupiva di questo spettacolo che noi spesso di giorno dimentichiamo, lo spettacolo del cielo stellato, come dirà anche Kant, no? Il grande Kant, il cielo stellato sopra di noi, nella legge morale dentro di noi. Ecco, De Maistre guardava il cielo e si chiedeva come interpretare questo spettacolo straordinario, e poneva una questione che ricordo mi colpì io, allora ero un ragazzo, dove finisce l'universo? Che rapporto c'è tra l'essere e il nulla? Che sono, come tutti sanno, le prime categorie della riflessione filosofica greca, no? L'essere, il nulla e il divenire. Dove porre un limite alla nostra visione? C'è un limite? E cosa c'è al di là del limite? Ecco, queste prime domande che avevano una ingenuità, naturalmente, nel lettore che io ero allora, ma anche una profondità, una profondità che io avvertivo come una vibrazione, forse furono le prime indicazioni che mi misero per il cammino della filosofia. Non sono mai state le stelle più brillanti, quelle che contemplo con maggior piacere, ma le più piccole, quelle che sperdute in una distanza incommensurabile, non appaiono se non come punti impercettibili. Quelle sono sempre state le mie favorite. Allora vengo trasportato, senza sforzo, a una distanza a cui pochi viaggiatori sono giunti prima di me, e mi meraviglio, trovandomici, di essere ancora soltanto alle soglie dell'ampio universo. Credo che sarebbe ridicolo pensare che esista una barriera oltre la quale cominci il nulla, come se il nulla fosse più facile da comprendere dell'essere. Le stelle, quindi. Le stelle, l'universo, le più piccole stelle, questo colpisce molto, vero? Le più piccole stelle, non le più brillanti. Tra l'olta la verità si nasconde nelle cose umili, nelle cose che sfuggono allo sguardo. Anzi, un grande filosofo disse «è difficile pensare quello che ci è particolarmente vicino, perché è troppo vicino, non lo vediamo». Eppure spesso conserva una serie di segreti, se solo sappiamo ascoltare e guardare quello che è vicino. Ecco, ora io vi invito ad ascoltare un secondo brano di De Maestre, di questo viaggio intorno alla mia camera, che è stato composto intorno alla fine della sua carriera di giovane ufficiale. Un secondo brano nel quale è in particolare, in primo piano, l'idea che i mondi siano infiniti, non solo che sia infinito l'universo, ma che ci siano tanti mondi come il nostro, e tanti mondi caratterizzati da una eternità di tempo. Ecco, queste idee, in fondo, De Maestre vive tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento. Ecco, queste idee forse a De Maestre venivano dai pensatori libertini del Settecento, venivano in fondo ancora più indietro da Giordano Bruno e fra poco ascolteremo la voce potente di Giordano Bruno, che fu il primo, forse, a pensare nell'età moderna che i mondi fossero potenzialmente infiniti ed eterni. Ma non vorrei però trascurare un altro elemento che mi pare così evidente. De Maestre è un maestro nel saper suscitare pensieri profondi, pensieri singolari, pensieri che ci mettono in qualche modo in cammino per luoghi sconosciuti della memoria e della riflessione, ma lo fa con una leggerezza di tocco davvero ammirevole. Sentirete ora come in fondo si prenda in giro, come lui stesso ironizzi su questa sua pretesa di costruire una filosofia, e come nello stesso tempo, laddove sembra giocare con se stesso e con l'idea di una filosofia dell'universo, non rinunci però a toccare alcuni punti che è impossibile che non ci commuovano, o quantomeno che non smuovano la nostra riflessione, la nostra domanda, ma davvero c'è un numero infinito di mondi, ma davvero ci sono altri esseri intelligenti nell'universo, ma davvero potremo noi entrare in rapporto con loro, e davvero questa vita che palpita ogni notte, se solo apriamo la finestra come faceva Domestra e guardiamo il cielo, davvero questa vita che palpita è eterna, e che significa eterna. Compiendo uno sforzo di mente soprannaturale, compongo allora un sistema del mondo che è il più completo di quanti mai siano stati pubblicati. eccolo, è la conclusione delle meditazioni di tutta la mia vita. Io credo che... ma ciò merita un capitolo a parte, l'unico del mio viaggio che avrà un titolo. Capitolo sedicesimo, sistema del mondo. Io credo dunque che, essendo infinito lo spazio, sia infinita anche la creazione, e che Dio abbia creato nella sua eternità un numero infinito di mondi, nell'immensità dello spazio. Sono Carlos Sini, qui a Damasco sto affrontando il tema di una vocazione filosofica, diciamo così, di un incontro determinante con la filosofia che ha deciso della mia carriera di docente, di filosofia, di scrittore, di cose filosofiche, e questa nostra prima occasione di incontro ho deciso di dedicarla all'universo infinito, all'infinità del mondo, e quindi a quei testi che più mi hanno influenzato nel corso della vita, degli studi, proprio con questa tematica abbastanza inquietante, no? L'idea di trovarsi in un mondo che non ha confini e l'idea di trovarsi in un mondo che contempla, contiene altri infiniti mondi, magari come il nostro, con persone come noi, con intelligenze, quantomeno con le quali ancora oggi noi, soprattutto oggi, direi, sogniamo di poterci mettere in contatto. Sapete che vi sono delle strutture, delle strutture astronomiche che scandagliano continuamente l'universo, il cielo, per poter captare, ove mai fosse possibile, dei segnali intelligenti. Ecco, vi invito, dopo aver ascoltato De Maestro, vi invito ad ascoltare un grande maestro della filosofia, Giordano Bruno, anche martire, come si sa, del suo pensiero, perché nel Seicento perseguitato per le sue idee considerate eretiche. E noi leggeremo tre brani dalla Cena delle Ceneri, dai dialoghi italiani e in particolare da questo dialogo che affronta un tema, al tempo di Giordano Bruno, assolutamente attuale, un tema che concerne appunto la rivoluzione copernicana. Allora era una grande novità e ancora non era stata accolta tra le ipotesi scientifiche che la Chiesa potesse fare proprie e Bruno appunto venne perseguitato per queste idee copernicane, le quali sostenevano che non è la Terra il centro dell'universo, la Terra è un piccolo pianeta che gira intorno al Sole e che, come dire, partecipa della vita universale dell'universo. Ecco, quello che noi ora sentiremo leggere è l'elogio di Copernico, l'elogio di colui che, primo fra tutti, ha osato attraversare i cieli con la fantasia, naturalmente col pensiero scientifico matematico e ha attraversato i fuochi dell'universo scoprendo la verità che essi contenevano, questa verità è che non c'è altro corpo dell'universo, che nell'universo non c'è nessun una parte senza vita e che tutto questo insieme è come un chiostro della verità, è come un tempio della verità che noi abbiamo scoperto al di là delle antiche limitazioni del pensiero. Ora ecco quello che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo. Aperti quei chiostri della verità, nudata la ricoperta e velata natura, quei chiostri li rende non meno presenti che si fussero propri abitatori del Sole, della luna ed altri nomati astri. E n'apre gli occhi a veder questo nome, questa nostra madre, che nel suo dorso ne alimenta e ne nutrisce, dopo averne produtti dal suo grembo, al quale sempre di nuovo ne riaccoglie. E non pensare oltre lei essere un corpo senza alma e vita. I chiostri della verità è un corpo, un'alma, un'anima che anima il tutto. Ecco, un secondo brano, sempre dalla cena delle ceneri, dice due cose fondamentali, due cose che tengo a sottolineare ai gentili ascoltatori, che indico loro come una guida di lettura e una ragione di questa scelta che loro propongo. Anzitutto l'idea che per tutto l'universo, dice Bruno, non ci siano luoghi dissimili fra di loro, non ci sia un luogo dissimile da questo. Questo è un pensiero, vedete, molto rivoluzionario. Cioè Bruno non concepisce più il mondo come la terra al centro, che è il luogo delle creature che muoiono, delle creature sublunari, si diceva una volta, che stanno sotto il cielo della luna, mentre i cieli sarebbero costruiti da sfere cristalline dove la vita è eterna, quindi eterna nel cielo e invece mortale qui da noi. Ecco, Bruno sconvolge questa visione ed è naturalmente un passo determinante per tutta la scienza moderna. No, la vita è eterna dappertutto e dappertutto le cose vanno come qui sulla terra. Non c'è insomma luogo dissimile da questo, tanto che le leggi dell'universo possono essere concepite identiche in tutti i luoghi della creazione divina. Ma poi c'è una seconda notazione, la perpetua vita. Ecco, già abbiamo sentito qualche cosa del genere in De Mestre, questa idea che l'universo sia non solo infinito ma eterno. È difficile concepire l'eternità, perché quando parliamo di eternità evidentemente non parliamo soltanto di un fluire del tempo all'infinito, non è soltanto questo, perché un fluire del tempo all'infinito appunto è un concetto matematico col quale si entra poi in una crisi, cioè all'infinito cosa vuol dire? No, qui io credo che quando Bruno parla della perpetua vita non parla del tempo mortale, del tempo misurato nell'orologio o secondo gli anni, i mesi, i giorni, parla di un tempo verticale. C'è in ogni istante della nostra vita una eternità dell'universo, c'è una presenza costante di qualche cosa che percepiamo magari a fatica, ma che con una meditazione profonda parla nel profondo del cuore e che ci dice questo istante non morirà mai, questo momento è eterno, è salvato per sempre nella sfera eterna dell'essere, nella perpetua vita del tutto, quindi un tutto che ci espande in un infinito dello spazio e in un infinito del tempo che non è però quantificabile, ma che è qualitativo, se si può dire così, che appartiene ad ogni istante della nostra vita. A questo modo sappiamo che se noi fossimo nella luna o in altre stelle non sarremo in loco molto dissimile a questo. Così conoscemo tante stelle, tanti astri, tanti nomi, tanti mondi, che sono quelle tante centinaia di migliaia che assistono al ministerio e contemplazione del primo, universale, infinito ed eterno e efficiente. conoscemo che non è cun cielo, un'eteria regione immensa dove questi magnifici lumi servano le proprie distanze per comodità della partecipazione della perpetua vita. Non più la luna è cielo a noi che noi alla luna. Ecco, questo sentiremo nel terzo brano, terzo brano finale di questo incontro di Giordano Bruno della cena delle ceneri, questo incontro determinante per me, ma certamente per centinaia e migliaia di lettori di Bruno nel corso dei secoli, che hanno accompagnato il destino dopo la sua morte tragica sul rogo in campo dei fiori a Roma. Ecco, non più la luna è cielo a noi che noi alla luna è come riuscire a dare un'immagine concreta della rivoluzione copernicana. Facciamo conto di essere noi sulla luna. E allora che cosa succederebbe? Che noi ci sentiremmo sulla luna come se fossimo al centro dell'universo e la terra ci facesse da cielo. Ma questo accade in ogni punto dell'universo. Ecco, bisogna pensare questo pensiero che forse per noi oggi non è così sconvolgente, ma che allora era assolutamente nuovo, è assolutamente arduo, strano, anche inquietante, cioè dovunque siamo nel centro, dovunque siamo alla periferia. Ma pensatelo questo riflesso nella nostra vita, riflesso nella vita di tutti, in ogni momento. In ogni momento la nostra vita è al centro, no? Noi viviamo ora il centro della nostra vita e rispetto a questo centro abbiamo un passato e abbiamo un futuro, quello che già abbiamo vissuto, quello che immaginiamo di poter vivere poi. Ma questo è vero di ogni istante. Ecco, e allora capite, dappertutto c'è terra e luna, dappertutto c'è presente, passato e futuro, dappertutto c'è la perpetua vita. Non so se sono riuscito a farmi intendere, no? Quando parliamo dell'eternità della vita parliamo di una eternità interpretativa, del fatto che ogni punto della vita, ogni momento vissuto, ma anche ogni punto dello spazio, ogni pianeta, ogni stella, è lì a riflettere il tutto a partire da sé. Ma questo è vero anche per quel tutto che viene riflesso, sicché tutto il mondo è fatto di fiammeggianti corpi che sono quegli ambasciatori che annunciano l'eccellenza di Dio. Questi fiammeggianti corpi sono quei ambasciatori che annunciano l'eccellenza della gloria e mastà di Dio. Così siamo promossi a scuoprire l'infinito effetto dell'infinita causa, il vero e vivo vestigio dell'infinito vigore, ed abbiamo dottrina di non cercare la divinità rimossa da noi, se l'abbiamo appresso, anzi di dentro. Non meno che gli coltori degli altri mondi non l'avennano cercare appresso di noi, l'avendo appresso e dentro di sé, atteso che non più la luna è cielo a noi che noi alla luna. Abbiamo sentito quindi, ripeto, di quegli ambasciatori che celebrano l'eccellenza di Dio. Ecco, questi ambasciatori sono il segno della perpetua vita che è dappertutto, perché ovunque è terra, ovunque è luna, ovunque è sole, ovunque è mondo. Il tema di questa puntata è stato dedicato, come avete potuto ascoltare, all'enigma dell'universo, si potrebbe chiamarlo anche così, all'infinità della vita universale di cui noi siamo parte, parte palpitante in ogni istante, ma certamente anche, come dire, dispersi nel tutto e rispecchiati dal tutto. Dopo questo primo incontro, questa prima esemplificazione di un incontro filosofico, così come io ho potuto viverlo, ecco, io vi do appuntamento per la seconda puntata di queste nostre conversazioni, dove riprenderemo il tema attraverso più letture. Già ho detto che ho preferito scegliere varie testimonianze, vari testimoni o compagni di viaggio, chiamiamoli così, per illustrare come un po' alla volta la filosofia mi sia entrata nel sangue, chiamiamolo così, ecco, nella testa. E la prossima puntata, appunto, con la compagnia di voci filosofiche importanti, cercheremo di dedicarla ad una delle grandi tematiche della filosofia, la filosofia coniugata non al presente, non al passato, ma al futuro, che cosa noi possiamo sperare, diceva Kant. Ecco, la speranza sarà al centro del nostro prossimo viaggio. Buonasera, sono Carlos Sini, insegno filosofia all'Università Statale di Milano e questo è il secondo incontro con Damasco per riflettere su quegli incontri determinanti che hanno in qualche misura deciso della mia vita di insegnante, di professore, di scrittore. Il primo incontro lo dedicammo al tema dell'universo, della sua infinità, ma questo secondo nostro incontro, durante il quale saremo accompagnati dalla lettura di alcune pagine di filosofi importanti. Io ho deciso, lo ripeto ancora una volta, di scegliere un percorso variegato, evocando, rievocando anche a me stesso, diciamo così, quelli che sono stati forse gli autori che più mi hanno influenzato nel corso della mia carriera. Ecco, con l'aiuto di questi brani che io ho scelto, rifletteremo su che cosa vuole la filosofia. Si sa che c'è un detto abbastanza modesto, devo dire, che chiede a che cosa serve la filosofia. Ecco, è un luogo comune. La filosofia naturalmente non ha una utilità immediatamente pratica, ma si potrebbe dire che alla filosofia sono affidati, comunque lo vedremo nel corso del cammino, sono affidati gli interrogativi più importanti della nostra vita, quindi sotto questo profilo la filosofia ci accompagna sempre anche quando non lo sappiamo. Questa sera parleremo della terra promessa. La filosofia sogna da sempre la terra promessa, da quando è nata, da quando per esempio con Platone ha sognato lo stato perfetto, ha sognato lo stato della giustizia, nel quale la pace regna sovrana, nel quale la violenza è stata bandita, è stata posta fuori dalle mura, un mondo nel quale la gioia, la felicità, la collaborazione umana è al centro della nostra quotidiana esperienza. Ecco, questi sono i grandi sogni della filosofia, dai quali la filosofia non desidera, diciamo così, svegliarsi, desidera sempre sognarli di nuovo, ma non per sfuggire dalla realtà, ma anzi per approfondire l'enigma della nostra realtà, quell'enigma che è appunto la legge morale, quella legge per la quale noi non possiamo mai dimenticare il giusto e l'ingiusto, o quantomeno una contesa fra di noi su ciò che sarebbe giusto e ciò che sarebbe ingiusto, questo ci distingue dall'animale come la visione del cielo stellato, diceva Kant. Ecco, noi questa sera quindi affronteremo il tema della terra promessa della filosofia, del suo futuro, della promessa che la filosofia da sempre fa agli uomini e a se stessa, diciamo intrepida, non distolta dalla sua speranza, anche dalla ricorrente difficoltà o dalle ricorrenti sconfitte alle quali la vita dell'uomo va incontro. Quella che ora sentiremo leggere è una pagina di diario del 1906 di un grande filosofo tedesco, Edmund Husserl, filosofo ebreo, che è considerato il fondatore della fenomenologia, cioè di una delle correnti filosofiche più importanti del Novecento e ancora oggi direi tra le più significative. È una pagina di diario che svela al tempo stesso la promessa della filosofia, la speranza della filosofia e l'animo di un filosofo autentico, quale fu certamente Husserl. Un filosofo autentico è, diciamo così, al tempo stesso un uomo estremamente umile e un uomo estremamente coraggioso e anche pretenzioso, se si vuole dire così, ma nella consapevolezza che questa pretesa è una pretesa umana, non una pretesa personale. sentiremo Husserl dire io non posso vivere senza chiarezza, io devo, come dire, raggiungere la chiarezza interiore, devo capire che senso ha la vita, che senso ha il nostro stare qui, fra di noi, sulla terra, tutti insieme, non sempre pacificamente, come sappiamo. E naturalmente Husserl, quando scrive questa pagina, è un uomo maturo, un uomo che non è più un ragazzo, insomma, e conosce gli enigmi della vita e sa benissimo che queste domande sono le domande tradizionali della filosofia, come d'altronde domande che abitano nel cuore di tutti gli uomini, in fondo. Domande tradizionali della filosofia alle quali i più grandi ingegni della storia del pensiero umano, filosofi, letterati, scienziati, uomini della religione, non hanno mai saputo dare una risposta definitiva. Husserl dice, attenzione, non è che io abbia la pretesa di essere più bravo di loro, se dovessi pensare questo dovrei disperarmi subito, perché non ho di me questa alta opinione. Ma una cosa la so, so che io non posso vivere se non raggiungo almeno un primo bagliore, una prima isola di chiarezza? E allora questo mi dà un grande coraggio, una grande forza per superare i tormenti del dubbio, per andare al di là dei tormenti del dubbio. La terra verso la quale va la filosofia non è la terra dell'illusione, è la terra di una certezza evidente, di una possibile certezza evidente circa il senso di verità della nostra esistenza, e io non conosco una pagina più intensa di questa relativamente appunto al destino al quale si dedica ogni filosofo che fa ricerca appunto sulla verità. In primo luogo dico i compiti generali che debbo risolvere per me, se voglio potermi chiamare un filosofo. Senza venire in chiaro con me stesso, almeno nei tratti generali, circa il senso, l'essenza, i metodi e i principali punti di vista di una critica della ragione, senza aver meditato, progettato e fondato uno schizzo generale, non posso vivere in modo vero e veritiero. I tormenti della mancanza di chiarezza, dell'oscillare del dubbio, li ho goduti a sufficienza. Io devo giungere a una solidità interiore. So che si tratta qui di qualcosa di alto e di sommo. So che grandi geni vi sono naufragati. Se volessi paragonarmi a loro, dovrei disperarmi d'avanzo. Non voglio paragonarmi a loro, ma senza chiarezza non posso vivere. Senza chiarezza non posso vivere. Ecco, un altro punto di questo straordinario diario tematizza appunto, mette a tema proprio la terra promessa. Pensate che chi sta parlando, chi sta scrivendo, per se stesso, mai più Huster pensava che queste pagine sarebbero state stampate, lette, magari portate alla RAI. Ecco, non aveva certa idea di un uso. Era un uso tutto privato che lui faceva. Noi erano meditazioni notturne, come quelle di De Maestre, ma De Maestre ne aveva fatto un romanzo. Questo era un diario che teneva nel cassetto, diciamo così. Ecco, qui dice chiaramente che cosa è per lui la terra promessa. Dicevo, teniamo conto del fatto che si tratta di un ebreo, di un pensatore ebreo. Non è un pensatore religioso, Huster non era religioso, però certamente la matrice ebraica del suo pensiero è abbastanza evidente. E dice a se stesso come raggiungere la terra promessa. Parla, come sentirete, di una dedizione, di una severità, di una severità assolutamente casta, pura. Questo corrisponde alla realtà. Chi ha conosciuto Huster lo descrive come un maestro di incantevole severità, che era capace di chiamare gli studenti nel suo studio a Freiburg, dove insegnava, in Germania, e dire perché ieri sera? Ti hanno visto ieri sera al Tabaren, allora c'era il Tabaren. Ma tu fai filosofia, ma non ti vergogni. Ecco, un maestro che entrava nella vita privata dei suoi studenti e che esigeva una purezza d'animo ed una severità che anzitutto richiedeva se stesso, dicendo io non ho mai pensato alla mia carriera, io non ho mai pensato alle frivolezze della vita, ad essere ammirato, ad avere, come dire, molta fama, ma ostinatamente ho cercato cosa? E lo dice alla fine di questo brado in maniera incantevole. Ho cercato la terra promessa, il luogo della verità, il luogo del senso, il luogo nel quale le domande angosciose che accompagnano la vita di tutti trovano un barlume di risposta. Dice vorrei guardare nella terra promessa, non dice vorrei entrare, ma vorrei anche solo da lontano scorgerla, con lo sguardo limpido, con lo sguardo puro, comprendere che la missione della vita dell'uomo e la missione del filosofo, che in qualche modo la rappresenta, non è un nulla, non è un'assurdità, non è una follia, non è un senza senso, ha una meta, c'è una meta che possiamo intuire sia pure da lontano, e a questo sforzo naturalmente è dedicata tutta la vita di un filosofo, tutta la sua ricerca, la ragione per cui scrive, la ragione per cui insegna, è la terra promessa che chiama da lontano, ed è la speranza di tutti noi. Io voglio e debbo con un lavoro di dedizione avvicinarmi all'alta meta. Io lotto per la mia vita e perciò credo di poter procedere con fiducia. Le più dure difficoltà della vita, l'autodifesa contro i pericoli della morte, danno una forza insospettata, smisurata. Io non aspiro a onori e fama, non voglio essere ammirato, non penso agli altri né alla mia carriera. Solo una cosa mi preoccupa, devo raggiungere la chiarezza, se no non posso vivere, non posso sopportare la vita se non credo che ce la faccio, che davvero posso guardare nella terra promessa e di persona e con lo sguardo puro. Sono Carlos Sini e a Damasco sto intrattenendovi con una serie di incontri dedicati alla filosofia, a come la filosofia è nata nella mia vita, quale destino, quale passione e quale anche professione, visto che io la insegno all'Università di Milano. Questo nostro secondo incontro è dedicato al tema della terra promessa e il grande filosofo tedesco Edmund Husserl ci ha già dato nelle prime due letture un'idea di come intendere la terra promessa della filosofia. È la terra della chiarezza, diciamo così, è la terra nella quale abbiamo in qualche misura vinto il dubbio, vinta la disperazione, dirà anche Husserl in un altro brano, cioè siamo andati al di là dello sconforto che prende in certi momenti le nostre giornate, le giornate di tutti, la domanda dell'assurdità del vivere, del senza senso, del non avere un orientamento, del non avere un perché, del temere che tutti gli sforzi che pure compiamo perché la nostra vita sia migliore, perché la vita di coloro che amiamo sia, diciamo, più decente, più umana, il timore che questi sforzi abbiano a cadere nel nulla. Ecco, ora noi sentiremo, dopo aver letto due pagine di diario, una testimonianza famosa e straordinaria, la testimonianza di una suora che fu accanto a Husserl sul suo letto di morte a Freiburg nel 1938. Ed essa testimoniò, è morta da pochi anni, ed essa testimoniò appunto di cosa diceva questo famoso filosofo in punto di morte, consapevole di una malattia mortale che non gli avrebbe dato un ulteriore futuro. E le parole di Husserl sono straordinarie, perché dovete pensare, Husserl è uno dei più grandi pensatori del Novecento e non è che non lo sapesse. Bene, qui sul letto di morte dice, peccato, ora che sono finito dovrei ricominciare. Cioè l'umiltà, quella che in un altro momento di queste trasmissioni io chiamavo l'umiltà del filosofo, la grandiosità del suo progetto, ma anche la consapevolezza della pochezza delle umane forze e dell'individuo stesso. Peccato, ora che sono finito, ora che per la prima volta mi sono rifatto a me stesso con un piccolo inizio, dice, pensate un piccolo inizio, quest'uomo ha lasciato 40.000 pagine scritte e le chiama un piccolo inizio. Ora finalmente potrei cominciare a camminare verso la terra promessa e ora sono finito. E dice anche, come ascolterete, che questo gli rende difficile la morte. Non aveva pensato sino ad ora alla morte, aveva pensato alla vita. Un altro grande pensatore come Spinosa diceva, l'uomo libero pensa molto di più alla vita che non alla morte. La vita per trovare la verità. non sapevo che morire fosse così difficile. Durante tutta la vita mi sono sforzato di eliminare qualsiasi vanità. E proprio adesso che ho percorso tutta la strada, cosciente e responsabile dei miei compiti, adesso che con le conferenze di Vienna e di Praga per la prima volta sono riuscito a rifarmi soltanto a me stesso, del tutto spontaneamente, e ho messo le basi di un piccolo inizio. Ecco, devo interrompermi e lasciare il mio compito inadempiuto. Proprio adesso, alla fine, adesso che sono finito, so che dovrei ricominciare da capo. Dopo la testimonianza di Edmund Husserl, ora io vi propongo altre due testimonianze, sempre all'interno di questo grande tema che ci fa da guida in questo secondo incontro, la terra promessa, la speranza della filosofia. E sono due pagine, anche queste tratte da un diario. E sono di Enzo Paci, che è stato il mio maestro all'Università di Milano e che è stato sicuramente uno dei pensatori italiani della seconda metà del Novecento più importanti, ma non soltanto italiani, direi di fama mondiale. Ecco, Paci scrisse anche lui un diario, questo però non come quello di Husserl, che era un diario tenuto nel cassetto senza alcuna ambizione di pubblicarlo. No, queste pagine Paci le pubblicò in un libro che ebbe molta fama e che si intitolava Diario Fenomenologico, pubblicato dal saggiatore. Ecco, la prima pagina che leggiamo è una meditazione di Enzo Paci a Pavia del 14 marzo del 1956. Paci ha appena fatto lezione alle università e sera si siede nel piazzale Leonardo da Vinci, quello che è di fronte alle grandi torri medievali di Pavia, molto affascinanti, ci sono le rondini, c'è il sole che scende. E Paci fa in questa pagina la stessa riflessione che abbiamo sentito fare da Husserl, dovrei cominciare da capo. Fino ad ora la strada non era quella giusta, sento di dover ricominciare, dice Paci. E questo è molto caratteristico, non è un tratto, io l'ho voluto far sentire qui, perché non è un tratto che riguardi solo la vita personale di questi due filosofi, oltretutto collegati, perché Paci conobbe l'opera di Husserl e la fece conoscere in Italia, anche lui è un pensatore che appartiene alla fenomenologia. Ecco, ma non è un tratto personale, diciamo, di loro due, loro due hanno avuto questa esperienza che a un certo punto della vita hanno detto dovrei cominciare adesso, dovrei ricominciare. No, questo secondo me è la filosofia, la filosofia deve sempre ricominciare, a differenza della scienza che cumula i suoi risultati, per cui in fondo quello che si pensava qualche secolo fa è soltanto storia, ma non serve più allo scienziato di oggi, per il filosofo non è così. Noi dobbiamo sempre ricominciare a pensare Platone, noi dobbiamo sempre ricominciare a pensare Aristotele, la nostra storia di filosofi, ma soprattutto dobbiamo ricominciare a pensare la vita, perché la filosofia è sempre all'inizio, è sempre elementare, è sempre alla ricerca degli elementi profondi che guidano la nostra esperienza della verità e quindi sempre da capo deve porsi la stessa domanda, perché quella è l'esperienza della verità filosofica. Pavia, 14 marzo 1956, piazza Leonardo da Vinci, isolata, quasi chiusa, le torri medievali scabre, rosseggianti, le rondine le circondano, silenzio di secoli, mi siedo su una panchina isolata dopo le lezioni all'università, sento di dover ricominciare, di aver sbagliato, di non aver perseguito con chiarezza, con tenacia, con profondità quello che cercavo. E' vero, in ogni fatto, in ogni cosa isolata, si rivelano legami con tutte le cose, con tutti gli altri fatti. Nessun fatto è solo individuale, nessun fatto è solo universale. Questa necessaria mediazione del fatto non è né cosa né idea, così come l'uomo non è né bestia né angelo. Dopo il diario fenomenologico di Enzo Paci, ora vi propongo, a conclusione di questo nostro incontro dedicato alla terra promessa, al futuro della filosofia, così come ogni filosofo lo vive profondamente in sé, vi propongo una pagina che si intitola Sulla fenomenologia del negativo, che appartiene a quella rubrica che Paci teneva nella sua rivista, la sua rivista che c'è ancora, che è ancora pubblicata oggi, che è Out Out, teneva una rubrica il cui titolo era Il senso delle parole, questo è molto filosofico, i filosofi riflettono sul senso delle parole, noi spesso usiamo le parole per intenderci alla breve, diciamo così, e non ci rendiamo conto, dimentichiamo che peso hanno le parole, quanto le parole siano cariche di storia, cariche di enigma, cariche di domande. Ecco, in questa rubrica Il senso delle parole Paci dedicò una riflessione nel 1974, era vicino alla morte, è una delle ultime cose che ha scritto, sulla fenomenologia del negativo. Che cosa vuol dire? Qui sentirete Paci dice sono ricondotto a riflettere sul negativo, sul male, insomma, ero partito di lì, dice, perché in effetti Paci aveva cominciato la sua carriera studiando Platone e studiando il problema del negativo in Platone, ma qui ha delle ragioni precise, 1974 sono anni nei quali si diffonde in Europa la consapevolezza del dramma della Russia sovietica, di quello che era accaduto all'interno di un regime che voleva presentarsi come la terra promessa, che voleva essere la realizzazione del sogno umano, del sogno di tutta la filosofia, di realizzare lo stato giusto, lo stato perfetto, lo stato umano, lo stato dell'eguaglianza, lo stato della dignità umana, ed era diventato un mostro, un orrore, come tutti noi sappiamo oggi. E allora questa cosa cominciava a essere ormai innegabile, e Paci si interroga sul perché di questo traviamento, ma non solo di questo, sul fatto che le migliori imprese dell'uomo, spesso, per non dire sempre, finiscono nella degenerazione, finiscono nell'oblio delle loro ragioni prime, finiscono appunto nella violenza, nella prepotenza. E c'è una frase che sentirete, che a me sembra bellissima, che conclude questo brano, dice «Il male nel quale l'uomo si radica suscita uno stupore incoercibile». Già, lo stupore non c'è dato solo dall'osservazione del cielo, delle stelle, dell'universo, della legge morale dentro di noi, lo stupore è dato anche dal regno di Caino, dalla malattia mortale che accompagna la vita dell'uomo e dall'enigma di questo male. Sta avvenendo in me una lenta evoluzione filosofica. In un certo senso si tratta di un ritorno alle origini del mio pensiero, alla ripresa del problema del negativo. Il limite dialettico della situazione attuale mette in gioco il destino di ogni uomo. Per questo la filosofia, in un modo nuovo, è costretta a riproporsi il problema del senso della negatività. Il male nel quale l'uomo si radica suscita uno stupore incoercibile». Siamo arrivati alla conclusione di questo secondo incontro, di queste meditazioni sulla terra promessa della filosofia, sulla sua difficoltà e sulla sua irrinunciabilità. Più veniamo smentiti dai fatti, più però la speranza si rafforza, per così dire. Non viene meno la speranza della terra promessa, la speranza della città giusta dell'uomo, la speranza del riscatto dal male, anche nella consapevolezza del fatto che il male è qualcosa di strutturale dentro la vita dell'uomo. Ecco, direi che è un percorso che mi ha colpito moltissimo nel corso della mia personale esistenza, cioè la battaglia della filosofia contro il male della vita, che è sia il male personale, l'infelicità, il dolore personale, l'ingiustizia, anche delle vicende personali, e l'ingiustizia di tutti noi, cioè l'ingiustizia della vita sociale. Nel terzo incontro cercheremo di avvicinarci di più a quelli che sono i temi, diciamo così, tecnici della filosofia. La filosofia guarda il futuro, vuole la terra promessa, si stupisce dell'universo, si stupisce della eccezionalità dell'uomo nel mondo, si stupisce del male che è compagno del bene nella vita quotidiana che noi viviamo sulla terra, ma come affronta questi temi, cioè come cerca di fare chiarezza andando al di là del dubbio. Ecco, questo sarà il tema del prossimo incontro. Buonasera, sono Carlo Sini, insegno filosofia all'Università Statale di Milano e questi incontri di Damasco, appunto nel mio caso, vorrebbero testimoniare di come si diventa filosofi, diciamo così, senza nessuna pretesa naturalmente, come accada, diciamo, un destino di lavoro, di studio, di insegnamento dedicato alla filosofia. Negli incontri precedenti ci siamo occupati sia della terra promessa della filosofia, cosa vuole, insomma, la filosofia, sia dell'impatto che ogni uomo ha con l'infinità dell'universo, con la visione dei mondi che traspaiono nel cielo stellato notturno, ecco, come luoghi attraverso i quali lo shock filosofico si mette presumibilmente in movimento. E abbiamo sentito, tra l'altro, che l'aspirazione filosofica di fondo è la chiarezza. Certo, non c'è filosofo che non desideri la chiarezza, che non desideri un pensiero limpido, che non desideri una visione, che non sia assediata dalle contraddizioni, che non sia assediata dal dubbio, no? Qualche cosa che va al di là del dubbio. E allora l'incontro di oggi sarà, appunto, di questa sera, sarà dedicato alla logica, chiamiamola così, chi non sa che il filosofo è in fondo un logico, un pensatore logico, vuole essere coerente, non è un poeta, ecco, non è un artista, lo è anche talvolta, così come i poeti sono talvolta filosofi, ma il centro, diciamo, del lavoro filosofico è l'abito logico, costruire una certezza e una evidenza razionale che dia ragione di sé. Come diceva il grande Aristotele, per i filosofi si tratta di Logon di Donei, dare la ragione per la quale sostengono una cosa invece che un'altra. Ma come si caratterizza l'abito logico della filosofia? E qui dovremmo parlare di tutta la storia della filosofia, cosa ovviamente per noi impossibile. E allora io ho scelto due grandi, o meglio tre, grandi testimoni, un filosofo americano, Charles Anders Peirce, il grande Hegel e il grande Kant. Sono tre modi diversi di proporre la logica della filosofia come luogo di realizzazione della verità filosofica e cercherò di introdurli di volta in volta, sono brani che hanno naturalmente qualche tratto di difficoltà, la filosofia non è semplice, come si sa, anche se affronta le questioni più semplici, elementari, forse troppo semplici e quindi perciò così difficili. Charles Sanders Peirce, pensatore americano, statunitense, che visse tra l'Ottocento e il 1914, 1914, è autore di una serie di scritti, molti dei quali pubblicati dopo la sua morte, raccolti in sei volumi dei Collected Papers, pagine raccolte, e all'interno di questi pagine, ce ne sono alcune memorabili che hanno determinato il corso della filosofia del Novecento, in particolare della logica del Novecento. Peirce è considerato al tempo stesso il padre, uno dei padri della logica contemporanea, e il creatore della teoria dei segni o semiotica, questa è la sua caratterizzazione storica. Ma qui leggeremo un passo famosissimo, un passo famosissimo nel quale Peirce cerca di spiegare che cosa per lui rende le idee chiare, come si fa a rendere chiare le idee, e dice una cosa anche, sentirete, molto caratteristica, sono solo gli spiriti superficiali che non ritengono importante di chiarirsi le idee. Ecco, questo è un punto interessante. Noi filosofi non siamo, come dire, propensi ai dibattiti, diciamo, da, non so, da osteria o anche da salotto, ma nei quali ci si vuole a tutti i costi mettere in una gara dove io vinco te o tu vinci me. Noi collaboriamo per scoprire insieme la verità, non per avere ragione degli altri o ragione sugli altri, ma per avere ragione con gli altri. Questo è il caratteristico del filosofo che appunto non è un rettore, non è uno che usa la parola per convincere, ma usa il pensiero per comprendere. Ora, come si fa a comprendere e come si può sapere che un'idea è appunto logicamente apprezzabile? Qui Peirce, lo ascolterete, dà un'indicazione straordinaria. Dice non guardare al significato in sé delle parole che dici o delle argomentazioni che usi, perché queste sono dubbie. Ci si potrebbe sempre, come dire, presentare la cosa in un altro modo, ma c'è un sistema infallibile per vedere se un'idea corrisponde a ciò che essa dice, vedere quali effetti pratici essa produce. E allora faccio un esempio sin troppo semplice, banale se volete, ma mi pare chiaro. Se io continuo a dire che ti voglio bene, che ti amo, però ti prendo a schiafi tutte le sere, insomma c'è da dubitare che ti voglio molto bene, che ti amo, l'effetto pratico parla contro di me. Tengo molto a questo passaggio di Peirce perché esso ha ispirato quello che io chiamo il pensiero delle pratiche, che è uno dei temi che attraversano i miei libri, che attraversano le mie opere soprattutto negli ultimi 10-15 anni, e l'ispiratore è stato proprio Charles Sanders Peirce. La primissima lezione che abbiamo diritto di chiedere, che la logica ci insegni, è come rendere chiare le nostre idee. Ed è una lezione assai importante, disprezzata solo dagli spiriti che ne hanno bisogno. Ora, considerate quali effetti pratici potete pensare che l'oggetto di una vostra idea possa avere. L'insieme di questi effetti è l'intero contenuto della vostra idea. La logica, quindi, la dobbiamo giudicare a partire dagli effetti. La chiarezza del pensiero è tale se essa coincide con quelle conseguenze cui dà luogo. Uno stato giusto che si dichiara giusto deve essere giusto nei suoi effetti. Un ragionamento corretto deve essere corretto negli abiti a cui dà luogo o che ispira. Ma c'è qualcosa di più. Peirce diceva una grandissima cosa. Questo lo possiamo certamente verificare sul piano personale. Prima facevo un esempio molto banale. Ma soprattutto, diciamo così, la verità logica della filosofia è la verità di un'intera comunità, che non trova riscontro solo nella vita dell'individuo, ma nella vita della comunità tutta intera. E non solo nel brano che ora sentiremo delle pagine raccolte dei Collected Papers di Peirce, non solo della nostra comunità, e questo è straordinario. Non solo della comunità che vive su questa terra, ma di ogni possibile comunità razionale che possiamo immaginare abiti nell'universo. Ci ricolleghiamo al nostro primo incontro. Vi ricordate quelli che hanno sentito, che hanno ascoltato la prima trasmissione? La possibilità di infiniti mondi e di altre intelligenze. Ecco, la logica è qualche cosa che va al di là della terra. Non soltanto perché allude ad una verità trascendente, come qualche d'uno potrebbe credere legittimamente, è un'ipotesi possibile, ma perché riguarda l'intelligenza che è nell'universo e che non è detto che appartenga solo a noi, animali di questa terra, diciamo così. Allora noi dobbiamo essere in accordo con una comunità reale e ideale. Quello che noi diciamo deve produrre conseguenze pratiche conformi, coerenti, positive, non soltanto per noi che viviamo qui, ma per tutte le razze di esseri, come dice Peirce, che possono abitare negli infiniti pianeti che possiamo supporre essere nell'universo, è molto plausibile che vi siano se pensiamo ai miliardi di soli, ai miliardi di galassie. Bene, allora questo significa che la logica, il pensare correttamente, la verità del pensiero non appartiene all'individuo, ma è qualche cosa di sociale e di socievole. Insieme costruiamo la verità, questa verità è tale non perché io sono solo nel mondo con la mia verità, ma perché sono con gli altri nel mondo con la nostra verità. La logicità inesorabile richiede che i nostri interessi non siano limitati. Essi non devono fermarsi al nostro destino personale, ma devono abbracciare l'intera comunità. Questa comunità, a sua volta, non deve essere limitata, ma deve estendersi a tutte le razze di esseri coi quali possiamo venire in relazione intellettuale immediata o mediata. Essa deve giungere al di là di tutti i confini. Chi non sacrifica la propria anima per salvare il mondo intero è illogico in tutte le sue inferenze collettivamente prese. La logica è radicata in un principio sociale. Sono Carlo Sini, siamo a Damasco per questi incontri, incontri determinanti con una vocazione, una vita, nel mio caso una vita dedicata alla filosofia, all'insegnamento della filosofia, e in questo nostro incontro ci stiamo cimentando, diciamo così, con l'aspetto più tecnico della filosofia, con la logica, col pensiero logico, con l'abito logico. Abbiamo ascoltato due brani del grande Peirce, nei quali si è data un'idea di come dobbiamo giudicare la chiarezza chiaro e ciò che dà luogo a conseguenze coerenti, conformi. Se io dico che questa è una società democratica, deve essere vero che tutti sono liberi di decidere della loro vita e che non sono impediti da potenze oscure, diciamo così, o da pregiudizi o da presupposti che essi non governano. Questo è un esempio, naturalmente, ma sentivamo che questo significa non soltanto l'unità tra propositi e conseguenze, la logica che governa il momento in cui formuliamo un pensiero, ma poi anche il momento in cui lo mettiamo in pratica. La filosofia quindi non è affatto astratta, come qualcuno crede, anzi esige la realizzazione pratica. Ma avevamo sentito questo anche si conforma ad un ideale sociale. La verità è di tutti, è in cammino attraverso tutti ed è questione di tutti, alla quale tutti danno un loro compito. E allora nel terzo brano che ora sentiremo di Peirce, un brano a mio avviso davvero straordinario, Peirce qui, diciamo, abbandona la questione tecnica della logica, come si fa a costruire un abito di chiarezza logica che superi il dubbio attraverso un cammino che dall'individuo va alla comunità. Ma dice qualche cosa di più, dice qualche cosa che in fondo la logica non può governare. Dobbiamo in fondo desiderare di essere logici, perché laddove non c'è questo desiderio non c'è possibilità di dar vita ad un vero pensiero logico. Ma che cosa governa? Che cosa governa il nostro desiderio di verità e il nostro desiderio di logicità? Che cosa è alla radice della logica e quindi prima della logica, ma senza di cui la logica non nascerebbe nel cuore degli uomini e non avrebbe l'importanza che ha nella vita sulla terra? Ecco, non ve lo dico, ve lo lascio ascoltare. I sentimenti che stanno alla base della logica sembrano gli stessi del famoso trio di carità, fede e speranza, che nella valutazione di San Paolo sono i migliori e i più grandi doni spirituali. Né il Vecchio né il Nuovo Testamento sono manuali di logica della scienza. Ma il secondo è certamente la più alta autorità per ciò che riguarda le disposizioni del cuore che gli uomini debbono avere. Dunque, fede, speranza e carità, confessate che non ve l'aspettavate. Cioè che questo trio, no? Questo trio che non appartiene alla logica, come dice chiaramente Peirce, no? Questo trio che lui ricava da San Paolo, dalla grande tradizione cristiana. Ecco, questo trio che cosa significa? Significa che prima di costruire una logica nel senso tecnico della parola, noi dobbiamo avere una disposizione dell'animo, una disposizione del cuore che è apertura. Apertura che cosa vuol dire? Fede, speranza e carità. Fede, è quella che diceva Husserr quando lo leggemo la precedente puntata, sapere che noi desideriamo la terra promessa e abbiamo fede che esista. Perché senza questa fede non si va da nessuna parte, non si comincia neanche a pensare. Speranza, speranza che non siamo soli in questa ricerca. Appunto che questa ricerca è una ricerca sociale, comunitaria, che va forse al di là dei confini di questo piccolo pianeta, che coinvolge la verità e il senso dell'intero universo. E infine carità, certo, senza amore verso la vita non c'è né fede né speranza. E la carità è anche la carità nel pensiero verso il pensiero degli altri, la capacità di accogliere la ricchezza dei pensieri. Ecco, ora sentiremo invece la voce del grande Hegel, di uno dei più grandi filosofi della storia della filosofia, questo filosofo dell'Ottocento, autore della fenomenologia dello spirito. 1807 è da poco passato il centenario di questa opera capitale, nella quale Hegel affronta una questione straordinaria e ricorrente. Una delle obiezioni contro la filosofia è che ci sono tante filosofie. Avremo modo di ritornare su questo. Tante filosofie vuol dire nessuna filosofia da un certo punto di vista, no? Mentre la fisica è la fisica, la chimica è la chimica, e non ci sono tante fisiche o tante chimiche, almeno oggi, no? In ogni tempo c'è quella che viene considerata normativa, quella in cui tutti si riconoscono. Ecco, in filosofia no. Abbiamo molte filosofie. Molte filosofie vuol dire che la filosofia quindi non c'è, non esiste, o non vuol dire invece che noi non abbiamo compreso davvero che cos'è la verità filosofica, in che modo si muove la verità filosofica. Ecco, questo è il tema che è al centro di questo passo famosissimo, peraltro, della fenomenologia dello spirito di Hegel, in cui Hegel usa l'esempio celeberrimo del boccio del fiore e del frutto, i tre momenti nei quali viene esemplificato il cammino della verità. Perché il segreto di questa proposta di Hegel è tutto qui. La verità non è un significato astratto, non è un dato di fatto, è un cammino, è un compito, è un'avventura. A stento l'opinione comune riesce a farsi un concetto del progressivo sviluppo della verità. Il boccio dispare nella fioritura e viene come confutato da questa. Similmente si potrebbe dire che l'apparire del frutto renda il fiore una falsa esistenza della pianta, sicché ora il frutto subentra al posto del fiore come sua verità. Tali forme non solo si distinguono, ma ciascuna di legua sotto la spinta dell'altra, perché sono tra loro incompatibili. Tuttavia, proprio la loro mobile natura le rende momenti necessari dell'unità organica, con uguale necessità costituiscono la vita dell'intero. La mobile natura, abbiamo ascoltato questo, lo sviluppo progressivo della verità. Ecco, questo è difficile, io credo, da fare intendere a coloro che non si occupano di filosofia, che non hanno familiarità con l'abito filosofico, ma persino ad alcuni che si occupano di filosofia, ma che forse non condividono del tutto questa opposizione hegeliana che invece io condivido. L'idea, cioè, che la filosofia non è una proposizione, come se uno dicesse dimmi qual è il senso della vita, oppure dimmi qual è il senso del mondo, oppure dimmi qual è il senso di questa tua passione. E noi potessimo immaginare che c'è una frase ben costruita che lo dice. Ecco, non c'è, non esiste, perché la verità delle cose è quindi la verità della filosofia che cerca di dire le cose. Non sta in una proposizione soggetto-verbo-predicato, cioè il mondo è X. No, sta in un cammino attraverso le parole, sta in un cammino attraverso le figure che le parole suscitano, sta in un discorso, sta in un'esperienza quindi che è in movimento, che non si può mai immaginare di fermare una volta per tutte. E allora bisogna avere il coraggio di dire in filosofia, ma di dire a tutti i nostri compagni di vita. Vedete, la verità è anzitutto fare esperienza del proprio errore, del proprio cammino di metamorfosi, di cambiamento, di mutamento, e attraverso questo mutamento che la verità ci costringe, ci fa vedere che là dove siamo arrivati non è ancora terminato il senso della verità. Finiamo col grande Kant. E col grande Kant di nuovo tocchiamo i limiti della verità filosofica, i limiti della sua tecnica argomentativa. Abbiamo visto che l'argomentazione filosofica ha la sua verifica nelle conseguenze. Abbiamo visto che la verità filosofica ha la sua radice nel sentimento, nella disposizione del cuore che deve con fede, speranza e carità desiderare la chiarezza, desiderare la verità. Abbiamo visto nello stesso tempo che la verità è un'esperienza, non è una cosa, non è un significato, non è una rivelazione affidata ad una frase, ma è un continuo rimettere in gioco, ricominciare da capo, dicevamo la volta scorsa, è un continuo rimettere in gioco il senso della verità. Ecco, questa ultima proposizione che vi propongo oggi alla fine di questo cammino relativo appunto all'abito logico del filosofo, di nuovo, come dire, contorna l'esperienza della verità mostrando le sue impossibilità, là dove dobbiamo fermarci, là dove l'essere umano deve avere il coraggio di riconoscere l'enigma, il mistero, l'irresolubile, che va sempre di nuovo indagato, sottoposto a domanda, ma che non va, come dire, frainteso, che non va risolto una volta per tutte, con quelle posizioni che in sé non hanno verità, se sono assunte appunto così dogmaticamente del tipo, ma il mondo è solo materia, ma il mondo l'ha creato Dio, sì ma che cosa vuol dire? Ecco, questo senso del che cosa vuol dire, tale per cui la logica rimane muta di fronte a tale esperienza, è detto da Canti, in uno dei suoi scritti giovanili, in maniera mirabile, con un esempio che non può non rimanere nella memoria, mi ha accompagnato tutta la vita, cioè a quel tempo erano le prime, ci si trovava di fronte alle prime esperienze del microscopio e Kant guarda in un microscopio e vede nel microscopio, dice lui, infiniti esseri minuscoli che si fanno guerra e rimane stupito come in una goccia di materia ci sia la replica in piccolo di questa nostra vita tumultuosa, violenta e poi fa immediatamente una comparazione, una comparazione che è un salto nell'infinito, guardo una goccia di materia e la vedo piena, ribollente di vita e di aggressività e poi guardo l'infinità dell'universo nel cielo, nei mondi infiniti e dice questo spettacolo umana lingua non lo può spiegare, umana lingua va al di là e di tale dignità che va al di là di ogni nostra possibilità razionale di spiegazione. Quando vedo al microscopio del dottor Hill in un'unica goccia d'acqua numerose razze d'animali intente a perseguitarne altre e a venire a loro volta distrutte da ancora più potenti tiranni di questo mondo acqueo, quando guardo gli intrighi, la potenza e le scene di ribellione in una sola goccia di materia e di qui levo gli occhi in alto per vedere l'immenso spazio formicolare di mondi come di atomi. Non può umana lingua esprimere il sentimento che tal idea suscita. Ogni sottile analisi metafisica resta molto lontana dalla sublimità e dignità che è propria di questa visione. Abbiamo ascoltato allora la voce di Peirce, di Hegel e di Kant cercando di comprendere alcuni aspetti dell'abito logico del filosofo, di come ragiona o dovrebbe ragionare un filosofo, di quali sono i limiti di questo ragionamento, di questa esperienza della ricerca della verità. E domani invece ci interrogheremo nel nostro quarto incontro sul compito che accompagna proprio la vita del filosofo. Se abbiamo compreso le premesse, quelle che sono forse le destinazioni inconsapevoli che guidano verso la filosofia, alcuni di noi, ma poi silenziosamente tutti, come vedremo, ecco se sono queste le premesse che cosa lucidamente deve fare il filosofo? Come deve affrontare il compito di una vita che voglia dirsi filosofica? che cosa questo compito implichi sia per l'individuo sia per la società? O in parole molto più semplici, qual è il posto della filosofia? Nell'esperienza comune di questa nostra cultura, ben inteso, la filosofia appartiene soprattutto all'Occidente, all'Europa e alla tradizione occidentale. Qual è il posto della filosofia accanto all'uomo di fede, al religioso, allo scienziato, all'artista, all'uomo di tutti i giorni, all'uomo della strada, come si dice che siamo tutti il filosofo per primo? Ecco qual è il compito nel quale il filosofo può riconoscere una sua utilità e un suo dono agli altri. Grazie e buonasera. L'Università Statale di Milano, insomma, nella vita faccio il filosofo e a Damasco cerco di dare qualche idea di come mi sia venuta questa vocazione per la filosofia, come capiti, insomma, di decidere di dedicare la propria esistenza ad una cosa così abbastanza inconsueta, no? Come è la filosofia, che non è certamente una disciplina popolare. Anche se, devo dire, la mia esperienza di insegnante mi ha insegnato appunto che in tutti gli ordini di scuole i giovani sono attratti dalla filosofia, se la si insegna con passione, se la si insegna con umiltà, ma anche con devozione, dedizione. I giovani rispondono di solito con grande entusiasmo perché, e oggi avremo modo di ricordarlo, la filosofia in fondo parla di tutti, parla di tutti noi, affronta problemi che sono di tutti. Abbiamo parlato la volta scorsa dell'abito logico, quello che caratterizza il modo di ragionare di un filosofo, e oggi invece parleremo del compito del filosofo, non tanto del compito della filosofia, ma proprio di qual è l'abito morale del filosofo. Se dovessi, ecco, distinguere in maniera chiara questi due incontri, quello appena trascorso e quello che comincia ora, direi che in quello precedente ci siamo occupati della filosofia teoretica, quella che io insegno all'università, cioè la teoria filosofica, la fisica teorica, si potrebbe dire in fisica, qui potremmo dire la filosofia teorica, come si costruisce un pensiero filosofico. Ciò di cui ci occupiamo stasera invece è la filosofia morale. Qual è il costume interiore di un filosofo? Come un filosofo affronta il suo compito da un punto di vista etico, da un punto di vista della moralità pratica e quindi della sua appartenenza ad una società, ad un gruppo umano, della sua collaborazione alla verità che è di tutti, al senso di giustizia che è per tutti e al compito che accompagna tutti. Noi seguiremo questo compito del filosofo attraverso alcune citazioni, come sempre io ho scelto dei filosofi che sono stati emblematici per il mio cammino, che mi hanno ispirato in questo cammino e che credo che possano anche risultare efficaci per altri. Alcune voci, una voce in particolare l'abbiamo già sentita, ma altre due saranno nuove e confido che ci aiuteranno molto a comprendere sempre meglio qual è la natura di questa cosa che talvolta sembra esoterica, aristocratica, lontana e che invece è così nel cuore dell'esperienza di tutti che è in fondo la filosofia. Il compito del filosofo? La prima testimonianza la prendo da Friedrich Nietzsche, filosofo famosissimo che ha avuto una popolarità e ha tuttora una popolarità che va molto al di là dell'orizzonte specialistico degli studi della filosofia e in particolare di Nietzsche io citerò un passo della Gaia Scienza, una delle sue opere più significative. Siamo nella parte finale dell'Ottocento, Nietzsche è considerato il grande profeta del Novecento, morirà nel Novecento come si sa avvolto nelle tenebre della follia. Ma nella Gaia Scienza la follia era ancora molto lontana e siamo di fronte alla testimonianza di uno dei pensieri più lucidi, più forti, più lungimiranti. Che cosa si dice in questo brano? Bene, io inviterei coloro che sono stati così cortesi di seguire questa serie di trasmissioni, di rievocare il nostro inizio, il nostro inizio fu un inizio cosmologico, leggendo De Maestre noi ci siamo familiarizzati col pensiero che l'universo sia infinito, che il mondo non abbia confini e che al di là della terra ci siano infinite altre terre. E poi ci siamo familiarizzati col grande Giordano Bruno all'idea di attraversare, almeno idealmente, questo infinito universo e quindi di imbarcarci su una navicella cosmica, per così dire, andando a sondare le infinite muraglie del cielo, al di là di tutti i confini, con una domanda, cosa c'è al di là? C'è una possibilità di immaginare l'al di là? Ecco, tutti questi pensieri li vorrei rievocare per leggere queste poche righe della Gaia Scienza, dove Nietzsche sottolinea una cosa interessante e importante. I moderni, il mondo moderno, noi copernicani, abbiamo cominciato a familiarizzarci con l'idea dell'infinito, ma badate abbiamo solo cominciato. Pochi secoli, come sono quelli che ci dividono da Copernico, sono poca cosa nell'esperienza dell'umanità, ma siamo davvero in grado di sopportare l'idea, che il mondo sia infinito? Siamo davvero in grado di sopportare l'idea che la terra sia una piccola formazione dell'universo? Il filosofo ha abbandonato la terra col pensiero, è andato al di là della terra, e a questo punto dice Nietzsche è guai se gli viene la nostalgia della terra, deve imparare a familiarizzarsi col pensiero che la verità è al di là di questa terra, è in tutte le comunità razionali possibili, diceva Peirce. Eh ma per pensare questo allora il filosofo, ecco il suo compito, è un navigatore, è appunto come Cristoforo Colombo, diceva Bruno in pagine celebri, è come il grande Copernico, il filosofo è colui che deve sempre di nuovo prendere piede sulla nave, salpare. Abbiamo lasciato la terra e ci siamo imbarcati sulla nave, abbiamo tagliato i punti alle nostre spalle e non è tutto, abbiamo tagliato anche la terra dietro di noi. Ebbene Navicella, guardati innanzi, ai tuoi fianchi mugghi all'oceano infinito e non c'è niente di più spaventoso dell'infinito. Guai se ti coglie la nostalgia della terra, come se là ci fosse stata più libertà e non esiste più terra alcuna. Ma c'è ancora un altro mondo da scoprire e più di uno, via, sulla nave, filosofi. Via sulle navi quindi, ma via sulle navi perché? Cioè questo compito del filosofo è un compito unicamente come dire conoscitivo e mosso soltanto dalla volontà di conoscenza, anzi dalla superbia, quella superbia che secondo la tradizione biblica avrebbe perduto Adamo ed Eva naturalmente insieme, cioè la pretesa di mangiare il frutto della conoscenza e di essere quindi uguali a Dio e questa diciamo spropositata pretesa, quella che mette i filosofi sempre sul punto di salpare sulla nave. No, ecco, correggiamo questa idea con un brano di Husser, l'abbiamo già incontrato questo filosofo, da un brano tratto da quella che è stata la sua ultima opera, la crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, rimasta incompiuta appunto per la sua morte, un brano nel quale Husser chiarisce come il compito del filosofo non sia un compito di assurda, assoluta volontà di verità, chiamiamola così, ma sia qualche cosa che coinvolge tutti. In qualche misura siamo tutti invitati a salire sulla nave di cui parlava Nietzsche, siamo tutti invitati a salire sull'arca di Noè, della nostra esperienza, tutti quanti insieme perché tutti quanti insieme nella ricerca dei confini dell'universo e del senso della verità dell'esistenza, tutti insieme evochiamo un destino comune. E allora Husser in questa pagina usa un'espressione che è diventata celebre e che mi sembra così caratteristica. Dice dei filosofi che sono i funzionari dell'umanità. Questa è una frase bellissima, un'espressione bellissima. Il filosofo è il funzionario dell'umanità. Cosa vuol dire? Vuol dire anzitutto che non è sottomesso a nessuna autorità istituzionale particolare. Ha appunto una universalità che abbraccia quantomeno tutta la terra, tutta l'umanità. Il filosofo parla per tutta l'umanità, non parla in nome di una istituzione definita, di una patria definita, parla della patria comune, parla, dirà Husser, del vero essere dell'umanità, cioè parla della possibilità che l'umanità possa costruire qualche cosa di razionalmente comune, una abitazione, una navicella comune nella quale navigare nell'infinito e d'altronde che cos'è la nostra terra se non una navicella che naviga nell'infinito. Ecco, noi dovremmo costruire come funzionari dell'umanità, funzionari del bene di tutti e della verità di tutti, un luogo abitabile. Ma siamo in grado di farlo? Ecco la domanda con la quale si conclude il brano di Husser, siamo capaci di farlo, è possibile farlo, è possibile che la filosofia a questa funzione risponda con una risposta positiva. Noi siamo dunque nel nostro filosofare, come potremmo dimenticarlo, funzionari dell'umanità. La nostra responsabilità personale per il nostro vero essere di filosofi include anche la responsabilità per il vero essere dell'umanità. Questo è tale solo se può essere orientato verso un fine razionale, fine che può essere raggiunto solo se può essere realizzato attraverso la filosofia. Possiamo sfuggire a questo se? E se non è possibile, cosa dobbiamo fare per poter credere, noi che già crediamo? Noi che non possiamo continuare seriamente il nostro filosofare se esso ci dà a sperare solo filosofie effimere e non una filosofia? Husser suscita immediatamente una domanda, una domanda che ci richiama ad un brano di Hegel che avevamo ascoltato nella trasmissione precedente, la filosofia è tante filosofie. Però qui Husser ha dei dubbi, dice ma a che cosa possiamo sperare se andremo avanti a costruire tante filosofie, ma mai quella filosofia che ci gratifichi, che ci consolidi nell'idea di essere funzionari dell'umanità. Ecco qui Husser legge una crisi del nostro tempo, quella crisi che ancora Hegel non percepiva, una crisi della tradizione europea, della tradizione occidentale, del razionalismo europeo, una crisi della ragione europea che ha attraversato tutto il Novecento e in un altro brano appunto della crisi delle scienze europee Husser si interroga sul destino della filosofia e dell'umanità europea. Probabilmente la verità che l'Europa ha detto attraverso la sua filosofia, attraverso la sua religione, attraverso la sua grande tradizione non può pretendere di essere, diciamo così, la verità dell'intera terra. Può essere, diciamo, una strada, una via, una possibilità. L'Europa è a rischio di decadenza, è a rischio di caduta, addirittura, dice Husser, di caduta nella barbarie. Non dimentichiamo che queste pagine Husser le scrive quando il nazismo è appena arrivato al potere e quindi prevede presente la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, la distruzione dell'Europa per opera di se stessa, per opera della sua follia, della sua irrazionalità. Ecco, il sogno è quello però di una rinascita, il sogno del fatto che quel funzionario dell'umanità che è il filosofo possa recuperare la fede nella ragione, possa recuperare la fede nella ricerca, possa recuperare insomma il senso del suo passato ma allo scopo di renderlo utile per l'umanità futura tutta intera, funzionario dell'umanità, non funzionario dell'Europa, non funzionario del cristianesimo soltanto, funzionario di un'idea universale che è nell'Europa, che è nella filosofia, che è nel cristianesimo, ma di cui possiamo avere, come dire, certezza solo se essa, questa idea, darà vita a conseguenze pratiche conformi, cioè ad un'umanità razionale, ad un'umanità giusta, ad un'umanità pacifica e quindi a un futuro in cui l'immortalità dello spirito trovi celebrazione e realizzazione nelle istituzioni della vita di tutti. Questo è il sogno di Husserl alla fine della sua vita, quando appunto diceva, l'abbiamo letto qualche incontro fa, ecco, ora ho un piccolo inizio nelle mani, dovrei cominciare da capo. La crisi dell'esistenza europea ha solo due sbocchi. Il tramonto dell'Europa nell'abbandono del senso razionale della vita, la caduta nella barbarie, oppure la rinascita dell'Europa dallo spirito della filosofia, attraverso un eroismo della ragione. Allora, dall'incendio distruttore per la missione dell'Occidente, dalla cenere della grande stanchezza, rinascerà la finice di una nuova interiorità di vita, il primo annuncio di un grande e remoto futuro dell'umanità, perché soltanto lo spirito è immortale. Sono Carlos Sini e stiamo insieme leggendo alcune testimonianze di grandi filosofi nell'ambito di questi incontri di Damasco per dare conto di una vocazione, nel mio caso filosofico, di che cosa significa dedicare la propria vita, la propria vita professionale, quantomeno alla ricerca filosofica. Abbiamo sentito alcune voci, alcune testimonianze relativamente al compito del filosofo, che è il tema che ci siamo dati per questa puntata. E ora passeremo a due testimonianze di un altro grande filosofo del Novecento, che è Maurice Merleau-Ponty, francese, appartenente alla corrente della fenomenologia, quindi ideale discepolo di Husserl, come d'altronde il suo amico Sartre. Ecco, Merleau-Ponty, in due brani di un celebre testo, che è l'elogio della filosofia, ci aiuta a capire sempre meglio quello che è l'abito filosofico, o meglio il compito del filosofo, l'aspetto morale della filosofia, dicevo all'inizio di questo nostro incontro, l'aspetto morale della filosofia e l'aspetto politico, quindi, della filosofia. Chi è il filosofo, questo funzionario dell'umanità, in mezzo agli altri esseri umani. L'elogio della filosofia è un testo celebre che Merleau-Ponty appunto pronunciò quando venne accolto nel Collège de France. E qui sostanzialmente disegna il filosofo anzitutto come colui che non è mai schiavo del potere, anzi è il contrario dell'uomo di potere, è l'uomo della verità, è funzionario dell'umanità perché vuole una verità razionale che sia comune a tutti e non sorretta dalla forza delle armi o dalla forza dell'autorità, della tradizione. E proprio perché questo il filosofo si intende poco, da sempre, da Socrate in poi potremmo dire, il filosofo si intende poco con la politica non perché sfuga la politica o perché in qualche modo evada dalla politica o sia contro la politica. No, proprio per la verità della politica, perché incarna un'altra verità della politica, una verità che non è una verità dialettica, di scontro, dice i manichei che si scontrano fra di loro si intendono benissimo, anche perché gli uni sono la ragione degli altri, mentre il filosofo non si intende né con gli amici né con i nemici. E proprio perciò, dice Merleau-Ponty con una frase memorabile, la maniera di essere fedele ad una tesi politica nel filosofo dà sempre l'idea che potrebbe da un momento all'altro tradire. E già perché il filosofo è amico della verità, non è amico di questo o di quello, e allora quando la verità viene abbandonata nella lotta e nella contesa, il filosofo deve poter fare parte per se stesso, deve allontanarsi dalla politica per la verità della politica. Il linguaggio del filosofo è esattamente il contrario del linguaggio del potere. I manichei che si scontrano nell'azione si intendono meglio tra loro che non con il filosofo. Fra loro vi è una complicità perché ognuno è la ragion d'essere dell'altro. In questa mischia fraterna, il filosofo si sente un estraneo. Si avverte, dal suo modo di essere fedele, che potrebbe tradire. Egli non partecipa come gli altri e al suo assenso manca qualcosa di solido. Il filosofo non è completamente un essere reale. L'ultimo brano di questa sera, ancora di Maurice Merleau-Ponty, sempre dall'elogio della filosofia, direi dà l'ultimo tocco alla nostra breve ricerca, al nostro breve percorso su quello che è il compito del filosofo. Abbiamo sentito poco fa che il filosofo non è uomo di potere, che il suo discorso non è un discorso di violenza, non è un discorso di sopraffazione e quindi in questo senso è un essere che sta nel mondo, nel mondo della politica attiva e concreta, ma anche fuori del mondo. Dice il filosofo, abbiamo ascoltato, non è completamente un essere reale, cioè non appartiene alle passioni di tutti con tutto il suo corpo, diciamo, e con tutta la sua anima. Vuol dire che è un uomo astratto? No. Ecco, questo brano successivo è molto utile per comprendere che il filosofo sa benissimo di non essere fuori della storia, di non essere fuori del suo tempo, di camminare per la stessa strada dove camminano tutti, legato ai vincoli della comune umanità e della comune vicenda storica, ma nonostante ciò, ecco, il filosofo ha una funzione particolare, ha una vocazione particolare, non è suo merito, è stato, come dire, delle volte è un destino che subisce più che scegliere, è qualche cosa che gli capita di incontrare, di essere anche involontariamente il funzionario di una verità che è al di là della immediata esperienza di tutti, per una ragione molto semplice, che è la ragione stessa della filosofia, l'abbiamo più volte evocata, la capacità di meravigliarsi. Il filosofo si meraviglia, gli altri si dimenticano spesso, tutti ci meravigliamo, il filosofo qui incarna un'esperienza che per carità è universale. Però diciamo che in lui è più presente, più potente, più straniante che in altri la capacità di meravigliarsi di ciò che è, di ciò che c'è, di come siamo, di guardarsi intorno con sguardo stupito e allora è come se il filosofo si risvegliasse da questo sogno che è la vita quotidiana, che ci abbacina, diciamo così, che ci affascina, che ci conduce per mano ma anche ci acceca. Il filosofo si risveglia allo stupore, all'enigma, al dubbio, alla domanda e questo suo risvegliarsi mostra però che le domande che da questo risveglio sgorgano spontanee non sono le domande del filosofo, sono le domande di tutti gli esseri umani. Tutti gli umani hanno nel loro cuore le domande a cui il filosofo dà voce e per il quale, dando voce ed essendo in questo senso funzionario di tutti, funzione di tutti, può sembrare un po', diciamo, fuori del mondo, un po' strano. In realtà egli frequenta il limite del mondo perché, d'altronde, l'essere umano è appunto un essere al limite. Alla fine di una riflessione che all'inizio lo tiene in disparte, ma solo per fargli apprezzare meglio i vincoli di verità che lo legano al mondo e alla storia. Il filosofo non trova l'abisso dell'io o del sapere assoluto, ma l'immagine rinnovata del mondo e se stesso ben piantato in esso insieme agli altri. Il filosofo è l'uomo che si risveglia e che parla, e l'uomo ha in sé silenziosamente i paradossi della filosofia, perché per essere davvero uomo bisogna essere un po' più e un po' meno che uomo. Abbiamo concluso questo piccolo periplo dalla nave del filosofo, diciamo così, al risvegliarsi dell'uomo scoprendosi un po' più e un po' meno che uomo, come abbiamo sentito, qualcosa di mezzo tra l'angelo e la bestia, diceva la filosofia del rinascimento italiano, è picco della mirandola, l'essere umano è a metà strada tra l'angelo e la bestia, è l'animale. In questo senso abbiamo compreso la caratteristica, funzione del filosofo, il compito morale particolare, deve frequentare gli abissi per poter guardare anche il cielo, per poter guardare anche in alto. Domani affronteremo quindi uno dei temi capitali della filosofia, il tema della morte, come ho già detto, il filosofo è colui che affronta il senso della finitudine della vita umana e in questo senso pone il grande quesito sul senso della mortalità. Grazie e buonasera. Sono Carlo Sini, insegno filosofia alla statale di Milano, questi incontri di Damasco sono dedicati appunto a un percorso nel quale recare una testimonianza di come capiti a una persona di imbattersi nella filosofia e di decidere di dedicare alla filosofia il suo lavoro, la sua vita, la sua passione, come è capitato a me come capita a molti. Questo incontro finale ha un titolo molto particolare che io ho pensato così, la verità e la morte. Ecco, la verità e la morte sono le questioni capitali della filosofia. Si dice da sempre che la filosofia è una meditatio mortis. Il filosofo è colui che affronta la morte e pensa il senso della mortalità, della mortalità umana perché la visione della morte è quella che caratterizza appunto l'umano. È ciò che ci distingue dall'animale. Sono alcune cose fondamentali che appunto gli antropologi, filosofi, gli uomini della tradizione religiosa indicano come propriamente umani. Il linguaggio certamente questo sì, ma poi vedete il sepolcro. Là dove si seppelliscono i morti, là ci sono esseri umani. Gli animali non seppelliscono i morti, non hanno la morte davanti a sé. In un certo senso si potrebbe dire che gli animali sono eterni, non perché vivono all'infinito, ma perché non hanno il senso della loro mortalità, non vedono la loro vita circondata da un destino di morte. Ecco, questo destino di morte è ciò che ci caratterizza appunto nel senso che senza di esso è difficile immaginare un essere umano. Oggi è un tema molto rilevante perché attraverso i progressi della tecnologia qualche d'uno sogna una vita immortale per l'essere umano, è un po' fantascientifica come idea, ma soprattutto è un'idea non pensabile. Una vita senza la mortalità davanti non è umanamente concepibile. Noi dobbiamo sapere che il nostro tempo è limitato perché la limitazione del tempo è il senso che ci ritorna del compiere una vita. E vedremo non solo questo. Nella nostra puntata oggi affronteremo anche l'aspetto creativo della morte e lo faremo con una serie di riferimenti, come siamo soliti fare, a Hegel, a Whitehead, a pensatori di grande rilievo che si sono messi di fronte alla questione della negazione, della morte, della fine, della catastrofe, della tragedia e della verità che da tutto ciò può emergere. Leggeremo allora, se ascolteremo, un brano della Fenomenologia dello Spirito di Hegel. Già abbiamo avuto modo in precedenti incontri di richiamare quest'opera capitale della storia della filosofia del nostro 1800 europeo. In questo brano della Fenomenologia Hegel si esprime con alcuni passaggi che sono diventati emblematici, dove si dice, attenzione, la vita dello spirito, la vita dell'essere umano, non è quella vita che ripudia la morte, che ripugna alla morte, che guarda la morte, diciamo così, con un senso di stupefazione, di disagio, ma anzi la vita dello spirito è quella che porta la morte dentro di sé, è quella che riesce a tollerarla e che è in grado di guardarla in faccia. Sostanzialmente la vita dello spirito è quella vita che non ha paura di attraversare la negazione, di attraversare il nulla dell'essere, il negativo dell'essere. Si potrebbe dire in una maniera più semplice, diciamo più legata più all'esperienza comune, che soltanto là dove vi è sconfitta vi è rinascita, soltanto là dove vi è limite, vi è possibilità di andare oltre il limite, la vita dello spirito non è la vita compiuta, è la vita che si compie, è la vita che sempre di nuovo deve accettare la sua catastrofe, nel senso letterale di questa parola, cioè rovesciandosi verso il positivo, un positivo che è appunto caratteristico della spiritualità dell'uomo. La vita dell'uomo non è un circolo concluso nella natura, non è un destino una volta per sempre deciso, è ciò che egli vorrà essere, come appunto diceva il grande Marsilio Ficino o Picco della Miranda, i grandi pensatori del nostro rinascimento, la posizione dell'uomo nell'universo è decisa dall'uomo. Dio ha dato all'uomo questa facoltà di scegliersi un posto tra le creature, il posto non gli è già assegnato dall'istinto, è aperto dalla ragione, ma la ragione è la capacità di affrontare la negazione, l'errore, la morte e di superarli in un cammino di verità. L'energia del pensiero è l'immane potenza del negativo. La morte, se così vogliamo chiamare questa irrealità, è la più terribile cosa. E tener fermo il mortum, questo è ciò che richiede la massima forza. Ma non quella vita che non ridisce davanti alla morte, schiva della distruzione, ma anzi quella che porta in sé la morte, è la vita dello spirito. Lo spirito conquista la sua verità solo a patto di ritrovare se stesso nella totale devastazione. Lo spirito sa guardare in faccia il negativo e soffermarsi presso di noi. Questo soffermarsi è la magica forza che volge il negativo nell'essere. Ascoltiamo ora un secondo brano dalla Fenomenologia dello Spirito di Hegel, anche questo famosissimo, perché riguarda due figure della Fenomenologia dello Spirito, una figura divisa in due aspetti. Tutto il cammino della Fenomenologia dello Spirito è fatto appunto di figure emblematiche del cammino umano e qui si tratta della signoria e della servitù del signore e del servo. Il signore e il servo, dice Hegel, sono le prime figure della comunità umana nelle quali figure si realizza il contrasto, la lotta a morte, ecco la morte. Soltanto di fronte alla morte l'essere umano diventa umano, ma inizialmente la morte non gli si presenta soltanto come morte naturale, come malattia, diciamo così. No, la morte gli si presenta come conflitto a morte, come lotta a morte con l'altro uomo. E questo è caratteristico, gli animali confliggono solo raramente quando ci sono in gioco questioni di cibo, di sesso, non l'uomo, molto di più per la supremazia dello Spirito, lotta a morte con l'altro uomo, per diventare cosciente di sé. E apparentemente, come dire, nelle prime fasi dell'umanità, delle comunità umane, della storia umana, è il signore colui che arriva alla coscienza di sé sottomettendo il servo. E il signore sottomette il servo perché il signore non ha paura della morte, mentre il servo ha paura della morte e quindi si sottomette per ottenere vita, per ottenere risparmio della vita. Ma è solo apparente questa vittoria del signore, qui la grandezza di Hegel. La morte è qualche cosa di più profondo, il negativo che lo Spirito deve superare non è semplicemente la morte dell'individuo, è la capacità che è tipica dello Spirito umano e propria dell'umano di trasformare la natura e di andare al di là del negativo che è nella natura, traducendo la natura in vita dello Spirito. Come si chiama tutto questo? Ha una parola precisa, profonda, si chiama lavoro. È il lavoro ciò che consente all'uomo, attraverso lo Spirito, l'intelligenza, la razionalità, di superare la morte, non come morte individuale naturale, questa è insuperabile, ma come morte della collettività. Tutti insieme ci salviamo attraverso il lavoro. Il lavoro ci rende immortali e il lavoro è quello che il Signore non fa, è quello che fa appunto il serbo. E allora vedete com'è strana la vicenda dell'uomo, così come la descrive Hegel, proprio colui che si era ritratto di fronte alla morte è colui che sa fare qualcosa della morte, proprio colui che sembrava sconfitto è colui che alla lunga vince e che determina la civiltà umana del lavoro. L'individuo che non ha messo a repentaglio la vita può ben venire riconosciuto come persona, ma non ha raggiunto la verità di questo riconoscimento come autocoscienza indipendente. Con la morte si è bensì formata la certezza che entrambi gli estremi, mettendo a repentaglio la loro vita, la tengono in noncale in sé e nell'altro. Ma tale certezza non si è formata per quelli che sostennero questa lotta. L'opera loro è la negazione astratta, non la negazione della coscienza che supera in modo da conservare il superato e con ciò sopravvive al suo venire superato, come accade invece nel lavoro. Sono Carlos Sini, stiamo affrontando il tema della verità e della morte nell'ambito di questi incontri di Damasco, incontri determinanti per una vocazione nel mio caso filosofica. Abbiamo ascoltato la voce di Hegel, ora ascolteremo la voce di un filosofo inglese, Alfred North Whited, un filosofo tra i più grandi del Novecento, e leggeremo due brani da avventure di idee. Dico subito che questi brani sono particolarmente toccanti perché qui Whited affronta quel problema che abbiamo sentito in Hegel, la tragedia della guerra, del conflitto, della lotta a morte, e la necessità di superare il conflitto, la lotta a morte, con questa nozione così caratteristica che Whited affida alla parola pace. Pace qui non è l'anestesia dello spirito, è la capacità di portare con sé il negativo, come diceva bene Hegel. Ma vedete queste righe, Whited le ha scritte dieci anni prima che suo figlio, uno dei suoi due figli, durante la battaglia d'Inghilterra che infuriò per il tentativo di Hitler di invadere la Gran Bretagna, uno di suoi due figli, aviatore, morì appunto sulla manica. Eroicamente in questa grande battaglia mai più Whited avrebbe potuto immaginare che queste righe profettiche potessero toccare la sua stessa vita. Ecco qui lui dice che non è solo la tragedia come ci ha insegnato Hegel, bisogna portare con sé la sconfitta, bisogna portare con sé la morte, il servo che è stato sconfitto è l'unico che sa elaborare la sconfitta, mentre il signore che vive alle spalle del servo finisce per diventare lui servo del servo, perché senza di lui non avrebbe vita. Allora non soltanto però si tratta di elaborare la tragedia, si tratta anche di averne intelligenza, come dice qui Whited, comprendere che la tragedia, la morte è ciò che è costruttivo, creativo della bellezza stessa della vita, anche se questo è duro da accettare. La sofferenza, la frustrazione, la perdita sono tutto ciò che fa da sfondo alla gioia, alla bellezza, alla creatività, alla rinascita, alla possibilità dopo la tragedia di dire, e di dire non solo a parole, ma di far sì che queste parole diventino dei fatti, la tragedia non è stata in vano. Ecco, ogni volta che possiamo dire questo, lo spirito ha vinto sulla morte. Prescelgo il termine pace per quell'armonia delle armonie che placa la turbolenza della tragedia e completa la civiltà. La pace è l'intelligenza della tragedia e insieme la sua conservazione. Essa si intreccia con la sofferenza, la frustrazione, la perdita. Fra il trapassare di tanta bellezza, tanto eroismo, tanto coraggio, la pace è l'intuizione della permanenza. Essa vede la tragedia come un fattore di vita che persuade verso la bellezza. Ogni tragedia è il dischiudersi di un ideale. Ciò che poteva essere e non è stato. Ciò che ancora può essere. La tragedia non è stata in vano. Questo secondo brano di White, sempre preso da avventure di idee, è a mio avviso un esempio molto limpido di come talvolta la filosofia, la scrittura filosofica si avvicini alla poesia. Sono righe di una intensità straordinaria, che non voglio, come dire, deturpare con un commento puntuale. Le ascolterete e credo che assieme a me converrete che White era un grande scrittore, non soltanto un grande pensatore. Quello che mi interessa sottolineare, già lo accennavo prima, è che qui si ha della morte, che è il tema fondamentale della filosofia, il tema dell'umano in quanto tale, che la questione della morte non è guardata soltanto come tragedia, come catastrofe, come negazione, diceva Hegel, don della necessità, certo, di superare la tragedia acquisendo l'intelligenza della tragedia che White chiama pace. Quella pace che non è anestesia, non è pacificazione, non è distacco dal mondo, ma capacità di apprezzare la forza del negativo, come diceva anche Hegel, e quindi la necessità per l'uomo. L'uomo vorrebbe stare in pace, diceva anche il grande Kant, ma la natura, o Dio, come volete, la sa più lunga di lui e lo mette nel conflitto, perché solo il conflitto è spinta verso la superiorità spirituale, l'evoluzione spirituale. Ma allora, ecco, da questo brano di White si può trarre un insegnamento singolare, che la morte stessa è creatrice, che la morte stessa è un fattore positivo della vita umana, perché, pensateci, è la morte che seleziona ciò che appunto non c'è più, ma rimane come segno di una tragedia superata, come segno di qualcosa che va al di là. Pensate all'esperienza di White che scrive queste pagine, dieci anni dopo suo figlio muore nel cielo di Londra, nel cielo della Manica, e non deve essere stato facile per lui elaborare la pace, e comprendere però che questa vita, questo sogno della giovinezza, che mieteva tragedia, che mieteva spirito tragico e bellezza tragica, questa tragedia era la forza del futuro per l'Europa futura, che era uscita dalla tragedia del nazismo, che era uscita dalla irrazionalità della violenza e che si ricostruiva sulle basi del resto, dei resti, è la morte che ci dà i resti, e che ci dà in questo senso i segni, i segni di un cammino, di un cammino che viene da lontano ma che allude ancora ad un infinito in avanti. Allora ecco la capacità di fare della morte il grande compagno della vita, questo forse è uno dei più grandi insegnamenti della filosofia, che attraversa tutta la storia della filosofia, e che in certa misura dà il senso di una vocazione filosofica. Nel cuore della natura delle cose c'è sempre il sogno della giovinezza e il raccolto della tragedia. L'avventura dell'universo comincia con il sogno, e miete bellezza tragica. È questo il segreto dell'unione della gioia con la pace, che il sofferente raggiunga il proprio fine in un'armonia delle armonie. In questo modo il mondo riceve la sua persuasione verso quelle perfezioni che sono possibili per le sue diverse occasioni individuali. Siamo all'ultima lettura, soprattutto di questa puntata, di questo incontro che ci vede sul tema ragionare, sul tema della verità e della morte in filosofia, e come si poteva finire se non dando voce al fedone di Platone là dove Platone descrive la morte del suo maestro, la morte di Socrate. Ci sono nell'Occidente due grandi morti che poi si sono richiesti, amate, intrecciate, che hanno entrambe ispirato la filosofia nei millenni, e che sono ovviamente la morte di Socrate e la morte di Gesù sulla croce. La morte di Socrate è molto particolare, non è la morte di un uomo Dio, è la morte di un saggio, di un saggio filosofico. Ecco, le ultime battute che ora riascolteremo, che sono celeberrime, queste ultime battute, oltre alla loro nettezza, qualcuno ha parlato di uno sguardo quasi da medico, che Platone dedica al cadavere di Socrate e che fanno naturalmente da pandani invece alla riflessione che c'è dietro, la riflessione spirituale, filosofica. Queste ultime righe, oltre a essere letteralmente altissime, pongono due grandi problemi. Il primo problema è cosa intendeva Socrate con le sue ultime famose parole, siamo debitori di un gallo ad Asclepio. Qual è il debito? Il debito di quest'uomo giusto, come dirà Platone nelle ultime battute, qual è il debito che rimane a noi, che rimane a tutti noi? Siamo in debito verso che e verso chi? E ancora ce lo stiamo chiedendo, vedete, la filosofia ancora se lo chiede per tutti, in quanto il filosofo, abbiamo imparato, è il funzionario dell'umanità e tutti morendo abbiamo un debito evidentemente, no? E lasciamo agli altri il compito di saldare questo debito, se mai fosse possibile. Ed è la prima questione. La seconda questione che nasce è dal fatto che Socrate in questo dialogo diventa colui che parla di una eternità, di un'eternità della vita. Eternità della vita individuale, eternità della vita come vita dell'universo. Ecco il secondo enigma che attraversa tutto l'Occidente, ma al di là di ciò c'è l'emblematica figura di una saggezza che è bontà, che è giustizia, la migliore tra gli uomini di quel tempo, io direi la migliore degli uomini di tutti i tempi. Scoprendosi il volto che aveva coperto, Socrate pronunciò quelle che furono le sue ultime parole. «Critone», mormorò, «dobbiamo un gallo ad Asclepio. Pagate questo debito e non dimenticatevene». «Sarà fatto», annui Critone. «Ma vedi se è ancora qualcos'altro da dire». A questa domanda Socrate non rispose più. Trascorsi pochi istanti il suo corpo ebbe un sussulto. L'incaricato del veleno gli scoprì il volto, aveva lo sguardo fisso. Allora Critone gli chiuse la bocca e gli occhi. Questa fu la fine del nostro amico, il più buono e anche il più saggio e il più giusto degli uomini di allora. Ecco, con questa meditazione sulla morte, ma sulla morte come esperienza positiva della vita dello spirito, abbiamo concluso questi incontri dedicati a Damasco sulla funzione della filosofia, su quello che nel mio caso personale ha significato l'incontro con la filosofia. Naturalmente non è importante il mio caso personale. Io spero che il percorso abbia suggerito meditazioni, pensieri, esperienze che vanno molto al di là, ovviamente, della mia personale frequentazione della scienza filosofica, anche perché ho scelto, come avete visto, di leggere voci diverse. La filosofia è plurale, la filosofia è tante voci. La verità non è di uno solo, noi non possediamo la verità, siamo nel possesso della verità, è la verità che ci possiede e che ci spinge nella vita a fare esperienza di verità, e quindi anche esperienza di errore, esperienza di limite, esperienza di morte, come abbiamo imparato questa sera. Spero che questo sia stato gradito e utile ai gentili ascoltatori, che saluto con molta amichevole simpatia.